Conviene comprare Bitcoin in questo momento e in quale modo farlo? Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Oggi è un video di riflessione per un'email che mi è arrivata in questa settimana dove mi è stato chiesto una cosa molto interessante. È conveniente comprare Bitcoin in questo momento? Posso farlo ad esempio utilizzando la tecnica della Dollar Cost Average, quindi il DCA? Oggi rispondiamo a quest'utente che mi ha scritto questa domanda e preferivo rispondere a livello di video YouTube perché ritengo che l'argomento possa essere fortemente interessante. Andiamo a vedere se conviene comprare Bitcoin adesso per posizionarci nel lungo periodo e come farlo. Prima di entrare nel vivo di questa tematica, ragazzi, iscrivetevi al canale, lasciatemi un mi piace per questi video e soprattutto datemi la vostra opinione nei commenti. Cosa pensate su questa fase di mercato di Bitcoin? È conveniente comprare ora Bitcoin per chi magari ancora non l'ha mai acquistato? Per chi vuole entrare in questo mercato è conveniente farlo a questi prezzi? Scrivetemelo nei commenti. Per iniziare dopo il scontato che chi si è fatto la domanda se conviene o meno acquistare Bitcoin in questo momento ha già fatto un'analisi della blockchain, ha visto che cos'è questo mercato, ha analizzato la possibilità di investimento e ha deciso di entrare magari con una parte del proprio capitale sul mercato criptovalute perché lo ritiene interessante. Qui guardiamo solo ed esclusivamente la convenienza del timing. Che cos'è il timing? Il timing è il momento in cui conviene entrare su un mercato. Andiamo quindi a fare un'analisi di timing su Bitcoin per vedere se chi vuole posizionarsi su questo settore deve farlo in questo momento perché i prezzi sono scontati. Conviene in questo momento entrare sui mercati? Risposta no. Ve la ripeto, no. Andiamo sui grafici a vedere perché. Quando andiamo a fare un'analisi che riguarda un posizionamento di lungo periodo il grafico da guardare, il time frame da guardare è quello weekly usate. Time frame weekly perché è il più corretto, il più pulito e il più semplice da analizzare anche per chi è un trader poco esperto. Sul time frame weekly quello che riusciamo immediatamente a vedere per quanto riguarda Bitcoin è che nell'analisi di lungo periodo il mercato sta incontrando una fase di difficoltà perché veniamo da una fase di rabbasso molto forte che è stata quella dell'anno 2018 una ripresa nell'anno 2019 che però è stata una ripresa debole perché il mercato poi è tornato indietro quindi a questo punto possiamo tirar giù le nostre conclusioni molto semplicistiche che il mercato è in una fase di stallo oppure debolezza. Certamente non è in una fase di forza quindi state entrando in un mercato che sta dimostrando debolezza. Ci sono dei rischi da mettere in considerazione quando fate un'operazione di questo tipo se entrate in un mercato che è debole o in fase di riflessione state anche implicitamente assumendovi il rischio che il mercato possa virare completamente il trend di lungo periodo e portarlo al ribasso. Se fa questa cosa voi dite addio ai vostri investimenti perché nel momento in cui non siete trader e non avete messo uno stop loss e lasciate la posizione aperta è possibilissimo che il vostro investimento vada a dimezzarsi o addirittura anche peggio e a quel punto entrate nella famosa spirale della percentuale quella che porta all'azzeramento delle possibilità di recupero. Se non conoscete questa cosa scrivetemelo nei commenti faremo un video anche riguardo a questo meccanismo. Non essendo quindi il mercato in una fase rialzista a questo punto dobbiamo chiederci quando è conveniente comprare bitcoin se io ho già deciso che voglio acquistarlo. Quando fate un investimento di lungo periodo i prezzi devono dimostrare forza. Andare a comprare quando i prezzi crollano nel lungo periodo non è una grande genialata. È anche vero che esistono delle strategie che vi fanno mediare i prezzi quella a cui mi riferivo prima la famosa dollar cost average o ragazzi la strategia del piano d'accumulo quella più banale di tutti. È vero che questa strategia vi fa mediare il prezzo ma essendo una strategia dovete saperla applicare. Ci sono dei punti particolari dove magari questa strategia può andare ad essere inserita e comunque nei prossimi video sul canale TradingOn vi farò vedere anche come applicare questa strategia perché andremo a fare delle analisi quantitative di applicazione della dollar cost average su bitcoin in vari momenti per vedere qual era il momento migliore. E badate bene perché resterete stupiti anche dei risultati. Per farla breve quindi andare a comprare uno strumento finanziario mentre scende non è una genialata soprattutto se non siete trader abbastanza formati e non avete le spalle grosse anche a livello di investimenti intendo avete tanti capitali. allora cosa conviene fare? Quello che è possibile dire è che conviene mettersi le spalle al riparo e acquistare uno strumento finanziario nel momento in cui dà segnali di inversione di trend e di voler riprendere ad esempio un trend al rialzo. ovviamente ragazzi non sono consigli finanziario inutile dirlo sono semplicemente tecniche di investimento da buon padre di famiglia chiamiamolo così corrette precise puntuali per farvi rischiare il meno possibile ma no investimenti finanziari no consigli finanziari. allora dove sta questa inversione di trend? cosa dobbiamo aspettare? il grafico settimanale sia chiuso in una spirale di trend discendente lo potete vedere qui ragazzi vi ho fatto ad esempio questa trendline già questa trendline è estremamente significativa di quello che è il trend sul grafico settimanale di bitcoin in questo momento perciò se io dovessi acquistare questo mercato da neofita e voglio entrarci in questo mercato per un lunghissimo periodo dove sarebbero i miei livelli di ingresso intanto con una settimana che va a chiudere al di sopra di questo livello che vedete rosso quindi la prima trendline va bene ma la seconda e più importante sarebbe la rottura della trendline blu o azzurrina che vedete quindi questo livello qui quindi un livello e un secondo livello sarebbero i miei ingressi per un posizionamento di lungo periodo su questo mercato come vedete in questo caso la strategia migliore quella che vi ripara più dai rischi è quella dell'acquisto in breakout questo perché un mercato come quello delle criptovalute che si aspetta magari possa essere in crescita anche esorbitante nei prossimi mesi ad esempio c'è il problema dell'alving molti lo stanno utilizzando come leva per indicare che i mercati possano continuare a salire che in realtà non è del tutto così andremo ad affrontare anche questi argomenti nelle prossime settimane ragazzi perciò quello che consiglio è che ho visto nei miei vent'anni di esperienza sui mercati che in questo caso prendere posizione di lungo periodo conviene farlo utilizzando strategie di breakout come quella che vi ho indicato quali sono i prezzi se dovessimo così guardarle chiusure settimanali intorno a 9.200 dollari per esempio sarebbe una bella chiusura settimanale e poi dopo sopra i 10.000-11.000 dollari vi ho detto anche i prezzi anche se non sono consigli finanziari che tecnica vada a utilizzare? in questo caso se ho il primo livello di rottura e il primo livello di ingresso che è 9.200-9.300 più o meno potrei iniziare ad accumulare ogni giorno in quel caso utilizzando una tecnica che è quella della dollar cost average quindi solo dopo un segnale di inversione bene abbiamo risposto a questo punto a questa fatidica domanda se conviene o meno comprare bitcoin in questo momento vi ho detto la mia opinione chiaramente sono opinioni personali scrivetemi la vostra nei commenti se volete molti di voi già lo so mi faranno riferimento alla famosa questione io compro ora perché i prezzi sono bassi e sono un trader rischioso ma tanto non vendo se i prezzi vanno in perdita e quindi io non perdo è vera questa cosa? lo scopriremo nei prossimi video perché ho in serbo un video che parlerà proprio di questo argomento se non vendi non perdi? vedremo ciao a tutti ci vediamo nel prossimo video